Voglio che gli americani siano preparati per i giorni difficili che ci attendono. Attraverseremo due settimane molto dure, secondo quanto previsto dagli esperti. Poi vedremo la luce alla fine del tunnel, ma queste saranno due settimane molto, molto dolorose. Lo scenario descritto da Donald Trump durante il briefing sul coronavirus racconta che negli Stati Uniti il peggio deve ancora arrivare. È fondamentale che il popolo americano segua le linee guida per i prossimi 30 giorni, ha detto il presidente, riferendosi in particolare al distanziamento sociale. È una questione di vita o di morte. Il presidente finalmente si allinea alla disperata realtà della pandemia da coronavirus, ha commentato la CNN, visto che le dichiarazioni allarmistiche arrivano dopo giorni di affermazioni ottimiste e tese a minimizzare la situazione. Ora i dati sul contagio, con oltre 185.000 casi e quasi 4.000 morti, sono stati ritenuti preoccupanti, tanto da fare stendere le restrizioni fino alla fine di aprile. Secondo alcuni modelli predittivi di esperti citati da IBC e CNN, i decessi a causa del Covid-19 negli Stati Uniti potrebbero essere fra i 100.000 e i 200.000.